Posizionata a 1.261 metri sul livello del mare, ai piedi del Passo Tonale, Vermiglio si colloca quasi al vertice nord-occidentale del Trentino. Dappolluogo Trento, paese di meno di 2.000 anime, immerso nella natura e all'ombra della cima Presanella. È un oasi di pace e di vita montana, il luogo perfetto per ricaricare le batterie, e liberi, ten considerate. La victoria di un albicone, l'Italia, sempre il reo del mondo! Per il migliore del giorno, il reo del mondo, 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 Grazie a tutti.